4 anni e 10 mesi di reclusione, questa la condanna per il 49enne di Motto, la ex carabiniere accusato di violenza sessuale e danni di 3 bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni, arrestato nel giugno del 2011. Il giudice per le udienze preliminari Giuseppe Tommasino ha emesso la sentenza poco meno di 5 anni. Il sostituto procuratore Mariano Buccoliero invece aveva sollecitato la condanna per 7 anni e 8 mesi di carcere. Il 49enne si trova al momento ai domiciliari dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa l'anno scorso dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Di Sabato sul richiesta del PM Vincenzo Petrocelli. Una storia squallida, i tre piccoli sono entrati in contatto con l'uomo per una casualità, i minori infatti frequentavano la sua abitazione perché andavano a fare ripetizioni per la scuola. Dalla moglie del 49enne, insegnante, fu proprio la donna a dare inizio all'inchiesta nel maggio del 2009 quando presentò una denuncia dettagliata alle forze dell'ordine in cui raccontava che il marito da quando era andato in pensione era sempre a casa ed era arrivato perfino a picchiarla e a minacciarla con un grosso coltello da cucina. Gli abusi sui bambini risalirebbero invece addirittura al 2004. Secondo le testimonianze delle piccole vittime, l'uomo si masturbava davanti ai loro occhi, toccandoli nelle parti intime. Ieri la decisione del giudice per i 4 anni e 10 mesi, oltre che all'interdizione dagli uffici pubblici e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, cioè le vittime e i rispettivi genitori.